Progetto Piccoli Reporter di Viaggio con gli alunni di San Vito sullo Ionio, Scuola Media. Conclusa a San Vito un'avventura appassionante che ha preso il via lo scorso novembre con il progetto Piccoli Reporter di Viaggio, collegato agli insegnamenti disciplinari di storia e geografia, e che ha avuto come protagonisti gli alunni dell'Istituto Comprensivo Corrado Alvaro, plesso di San Vito sullo Ionio, frequentanti le classi prima e seconda della scuola secondaria di primo grado. Il progetto ha previsto una parte teorica, ma ha privilegiato l'apprendimento pratico e laboratoriale ed una modalità di lavoro collaborativa per un più ampio coinvolgimento di tutti i partecipanti. Nel corso del progetto i ragazzi si sono soffermati sulle regole di scrittura di un articolo giornalistico e nello specifico di viaggio sulla distinzione delle fonti e sulle modalità di svolgimento del lavoro redazionale. Hanno intervistato testimoni diretti del passato della realtà locale per ricostruirne usi, costumi, tradizioni e leggende. Durante le uscite sul territorio hanno fatto visita al comune di San Vito sullo Ionio, ad imprese e chiese del luogo, occasioni che sono servite a raccogliere materiali e informazioni necessarie allo svolgimento del loro lavoro di reporter e alla redazione degli articoli, man mano pubblicati sul magazine culturale online Carattere Mediterraneo. A guidarli in questo compito la professoressa Rosalba Matri, quale tutor, e la giornalista Maria Patrizia Sanzo, quale esperta esterna. La conclusione del progetto, con una manifestazione finale nell'aula consigliare del comune di San Vito sullo Ionio, alla presenza degli amministratori locali ed in particolare del sindaco Antonio Tino, e con la presenza della dirigente scolastica dottoressa Maria Carmen Aloi. Momenti di particolare emozione al momento della consegna degli attestati ai giovanissimi partecipanti entusiasti dell'esperienza extracurriculare vissuta. Per Tele Ionio, Anna Maria Colabrano.